La storia di te e la mia mamma Chiamiamole... Emily! Ti amo, William Hayes April? Sei quello che porta la carta igienica E Summer? Non ho mai passato tutto il giorno a letto con un ragazzo fantastico Neanche io E per tre volte Scusa, ti lascio prendere il volo Sei un idiota Ha rovinato tutto Wow! Neanche io ci posso credere Ma quest'anno... Sai che circa 35 persone si buttano dal ponte di Brooklyn ogni anno? Per lo più per pene d'amore? Lo terrò presente L'unica ragazza che non gli ha mai spezzato il cuore È decisa a guarirglielo Perché ti sta tanto a cuore questa faccenda comunque? Perché voglio che tu sia felice Mettiti il giacone Taxi! Taxi! Gli autori di About a Boy e Bridget Jones presentano la storia Ciao Di un tipo qualunque Che ci fai qui? Che dopo tre false partenze Io ti ho chiamato Ho perso il tuo numero Dopo tanto tempo Sì Non ci credo Papà! Ha un'ultima occasione Vuoi... Will? Per conquistare la felicità Sposarmi? Se solo riuscissi a capire Wow! Con chi Sì? Oh mio Dio! Certamente Forse Certamente Forse È una... Storia d'amore misteriosa Che potrebbe prevedere un menage a tre Cos'è un menage a tre? Ecco, è una specie di gioco che i grandi fanno quando... Quando si annoiano Bo sarà